Ben ritrovati nelle profumerie CAP di Via Faggi 62 Pesaro. Vi presento il vostro riferimento nel punto vendita alle nostre venditrici Valentina e Dilaria. Da noi potete trovare anche tante idee regalo sulla cosmetica, sia maschile che femminile. Da uomo ad esempio i cofanetti di ViuTerm, trattamenti viso di Clarenne, make-up di Diego della Palma e il famosissimo Toy Boy, tanto cercato. Hai un invito a cena e non sai cosa portare? Profumatori per l'ambiente, etro, nicolai, acqua dell'elba. Puoi scegliere tra profumatori spray, profumatori in candela o perché no i classici in vetro con bastoncini in legno. Puoi anche trovare gli elegantissimi accessori dietro, sia a bigiotteria, collane, bracciali e orecchini, tutto made in Italy e anche i loro fantastici beauty da tenere nella tua borsa con il necessario. E per le feste natalizie non puoi farti mancare i make-up in edizione limitata Dior. Fantastici smalti, tutti glitterati dorati, una selezione di rossetti in edizione limitata sui toni del rosso, sia opachi che lucidi. E abbiamo anche in edizione limitata questo esclusivo porta rossetto in metallo con all'interno un specchio e il suo caricatore specifico. All'interno contiene quattro ricariche dei rossetti della nuova collezione per le feste di Dior e il suo porta rossetto da borsetta. E sotto il tuo albero di Natale non può mancare il make-up Chanel numero 5, un'idea regalo per te, per le tue amiche più preziose. Smalto rosso in edizione limitata e una palette fantastica marchiata numero 5. E in esclusiva, sempre in limit edition per queste feste, Chanel ha proposto l'iconica fragranza numero 5 con un nuovo esclusivo packaging che riprende la forma della fragranza. E per chi fosse alla ricerca di una fragranza di taglio artistico con eccellenti ingredienti, tra cui essenze di origine assolutamente naturale, abbiamo in esclusiva Nicolai. Nicolai è un brand francese, made in Paris al 100%. Viene confezionato, imbottigliato e anche le sue essenze vengono sempre prodotte all'interno del laboratorio di Patricia Nicolai a Parigi. Vi aspettiamo alle profumerie K di Via Paggi 62.